Molto bello, commovente, ho visto un mondo senile, se vogliamo dire, della transessualità veramente toccante, interessante. Meraviglioso, questo film, Gardenia, tu bello, ma commotto, guarda, tu ancora in lacrime. Una situazione così diversa, così lontana dalla nostra cultura, dal nostro paese, ed è risultata per forza estremamente affascinante, poi molto toccante le storie di queste persone già maturi, insomma, con una vita alle spalle, insomma, l'ho trovato molto interessante. L'ho trovato straordinario, veramente bellissimo, mi è piaciuto molto. Molto bello, molto bello, veramente bello. Ma temerezza infinita. Ben costruito, bello, profondo, e non macchiettistico, assolutamente fuori dai cliché. Secondo me devono sviluppare un po' più la parte musicale dello spettacolo, però carino. Imperdibile. Direi struggente e toccante. Mi è piaciuto, è interessante, è interessante, ti rimanda un sacco di input particolari, storie strane. Io avevo visto anni fa lo spettacolo che mi aveva emozionato molto e penso che sia stato fatto un approfondimento giusto. Per quanto mi riguarda, come dire, ho completato quel livello emozionale raggiunto già dello spettacolo. Grazie. Grazie.